Oggi allo spazio Alfieri di Firenze abbiamo fatto un altro incontro, l'ennesimo tra portavoce del Movimento 5 Stelle a livello regionale con i consiglieri regionali della Toscana ma anche a livello nazionale abbiamo incontrato i cittadini e in particolare tutti i risparmiatori che sono stati truffati nella vicenda delle quattro banche che chiedono risposta ai cittadini. Ce n'erano tanti, tantissimi, li abbiamo incontrati per far sentire a loro che non sono soli e per prometterli ancora una volta ma anche con i fatti che stiamo dimostrando che continueremo ad avanzare proposte perché loro vengano risarciti tutti e integralmente. Quando c'è una truffa non c'è da stare a chiacchierare sul fatto che gli si dà indietro una parte dei soldi. Meritano di essere risarciti e non sarà certo il governo e la sua volontà di salvare le banche e di impedire quel risarcimento. Noi ci batteremo per questo. Grazie.